Tutti noi ce l'apprendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra Evidente che la gente poco seguia quando parla di sinistra-destra Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Destra-sinistra, 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 basta Luci sulla Tercas È il titolo di un libro in via di edizione sulla Tercas, l'ex banca Cassa di Risparmio della provincia di Teramo Si parlerà di tutto in questo libro al quale noi stiamo partecipando attraverso i documenti che abbiamo a disposizione Le testimonianze, gli uomini, gli attori e le attrici Fino al processo, perché siamo ancora in via di istruttoria Perché in questo momento a Teramo è fermo, si aspettano alcuni pareri E a Roma stanno ancora analizzando le ultime intercettazioni Di che cosa possiamo parlare oggi, oltre ad annunciare l'edizione del libro? Possiamo parlare di una storia strana Non delle intercettazioni in itinere di lettura, perché non le abbiamo Ma di qualcosa di lì vicino Allora, vi ricordo alcuni passaggi Abbiamo parlato della banca di San Marino Forse faremo uno speciale qui a Teleponte parlando anche dei nomi e dei soldi portati a San Marino Che sicuramente i terramani avranno dichiarato all'ufficio delle entrate Sicuramente, è vero? Va bene, ricordiamo che di Matteo Andovia nel settembre 2011 ci fu il commissariamento In quel periodo del commissariamento, nel maggio 2012 Ci furono delle dichiarazioni importantissime da parte dell'Avvocato Nisi Presidente della Tercas Attraverso il Sole 24 Ore Ritengo opportuno e doveroso segnalare ai clienti e ai risparmiatori Che l'Istituto è in assoluta sicurezza Nulla, quindi, debbono temere Così, in una nota, l'Inonisi, Presidente deposto di Banca Tercas Dopo il commissariamento dell'Istituto disposto dal Ministero dell'Economia Il 30 aprile scorso è reso noto oggi dalla Banca d'Italia Che ha nominato gli organi della gestione commissariale Via nazionale è scontrato l'inadeguatezza degli assetti di governance E dei controlli interni, nonché gravi irregolarità operative Nella nota, l'ex Presidente confermato lo scorso 19 aprile Del Comitato delle Società Bancari dell'Acri Per il triennio 2012-2014 Aggiunge La gestione commissariale sotto il diretto controllo della Banca d'Italia Offre la più ampia garanzia di salvaguardia Dalla grande realtà che Banca Tercas da decenni Ha rappresentato nel territorio abruzzese Sappiamo bene com'è andata a finire Sappiamo bene che Le azioni oggi valgono zero Sappiamo bene che in quel periodo La politica espressa i giudizi favorevoli All'Avvocato Nisi E preoccupati Erano preoccupati Gianni Chiodi Era preoccupato il sindaco Maurizio Brucchi Era preoccupato Walter Catar Non era assolutamente preoccupato Il senatore Tancredi Che sempre in quel periodo a fianco all'Avvocato Nisi Dichiarò E' un provvedimento duro che non ci aspettavamo Non entro nelle contestazioni dell'organo di vigilanza Ma lo considero un episodio che non avrà ricadute per i correntisti E per l'economia del territorio Bravo al senatore Tancredi Lungimirante Qual è la notizia di oggi oltre al libro? E' una notizia grossa Si dice Si dice Che nelle intercettazioni Il buon di Matteo Chiamato anche il lupo nero L'uomo nero Cioè il lupo cattivo Andato viene a settembre 2011 Con delle carte I verbali di Tercas Dal 2005 al 2012 C'è un'analogia tra la banca Tercas E il monte Paschi di Siena Qual è? La cassaforte dei documenti Non è stata mai aperta Però Si dice sempre Che il buon di Matteo Ha quei documenti E nei documenti Si dice Che un certo Mister X Nel dicembre 2012 Ha avuto un fido Di circa 12 milioni di euro Chi è Mister X? Carta canta